Questo video non va bene, ma mi interrompi sempre un casino, volevo dire, un direttore bravo che ha sistemato un bel po' di macchine che si è impegnato, l'ha preso in quel posto lo stesso perché una parte della fabbrica non l'ha guardata e lì è successo Ma se non me lo fai spiegare, capito? Ma quella parte lì la usava poco, il padrone poi non me la faceva sistemare perché dovevano mandare le macchine a trasferirsi Ma come faccio ad andare dall'amministrazione e dire dammi 50, 80, 60, 30 mila euro per sistemare delle macchine che fornano due e butto via? Però al PM se succede qualcosa cosa fai? E viene da me Ma anche dal titolare? Io quello che voglio dire è che il direttore deve pensare che c'è di mezzo anche la sua famiglia e questa cosa deve pesare Ciao